ok adesso dovrebbe essere in registrazione allora io ho pensato di fare così mi sono scritto i miei appunti a mano però diciamo su un file che pdf che adesso manderò alla manager didattica che ve lo manderà tutti quanti così bene o male lezione per lezione avrete riscritto anche quello che faccio alla lavagna così avrete anche un riferimento e questo ovviamente non è tutto ci sono ovviamente i libri di testo in particolare diciamo i libri di riferimento sono il mio cuccini c'è il rosati e c'è il libro voci il libro voci attenzione però non è l'introduzione a fisica ma è il libro un po più grosso che si chiama fisica che sono gli uni e voi dovete prendere guardare il secondo volume e non è che io abbia una preferenza per un testo oppure l'altro perché in realtà non è che io seguirò in particolare un testo però troverete quello che vi racconto e lo troverete in tutti i libri tanto fisica 2 diciamo è una materia molto classica è il tema inconsolidante per quanto riguarda le domande se avete delle domande da fare non so come vi siete messi d'accordo con il professor Pagliare se volete farlo a voce se volete scrivermi non so bene e ditemi voi ecco se qualcuno allora questo web ltc va beh direi che se mai nella pausa io dopo circa un'ora farò 10 minuti di pausa e magari nella pausa ci sentiremo se avete bisogno di qualcosa allora cominciamo un pochettino a vedere che cosa voglio raccontare allora partiamo nel riscrivere un pochettino quello che avete visto con il professor Malabu e ripetere alcuni concetti che diciamo negli anni ho visto che sono sempre un po' un problema per gli studenti allora vediamo un pochettino di riscriverci l'equazione di Maxwell e diciamo per i capi statici come l'avete visti prima in luogo e poi vedremo anche qui nella maniera allora la prima è la legge di Gauss che dice che il flusso attraverso una superficie chiusa del capo magnetico è uguale a carica contale contenuta è questa superficie chiusa di riservazione 0 che può anche essere scritto come l'integrale della densità volumetrica di riservazione 0 integrata sul volumetrico questa è la prima che avete visto della legge di Gauss che sostanzialmente descrive che il campo elettrico è un campo elettrico statico generato da delle cariche elettriche sostanzialmente è un campo elettrico che decresce come un usuario 4 questo deriva direttamente dalla legge di Coulomb poi uno introduce il campo elettrico e ha un campo elettrico che decresce come un usuario 4 poi avete visto che nel caso dell'elettrostatica il campo elettrostatico è un campo conservativo cioè c'è l'integrale di linea su un percorso chiuso che chiameremo generalmente gamma questo integrale di linea del campo elettrico lungo questa linea è uguale a 0 quindi il campo elettrico diciamo non è un campo conservativo questo significa, se l'avete visto, che il vostro campo elettrico può essere scritto come meno il gradiente di una funzione potenziale che descrive appunto il potenziale elettrostatico bene, queste sono le due equazioni che descrivono il campo elettrostatico mentre abbiamo le due equazioni che descrivono il campo elettrico la prima dice che il campo magnetico integrato su una superficie chiusa è uguale a 0 per questo lo sappiamo, diciamo, implica che non esiste il monofor magnetico non esiste la carica magnetica isolata non esiste un oggetto che ha una carica, come la carica elettrica perché esiste l'elettore, per esempio che ha magari il negativo, la pari di un certo valore ed è soggette nel campo elettrostatico nel caso del campo magnetico non esistono soggetti nel campo magnetico l'ultima, quella che avete visto, è la litimia ampere che dice che la cinturazione di lì lungo una linea chiusa è uguale a un 0 per il flusso della densità di corrente J attraverso una superficie che in questo caso è una superficie aperta e questa superficie aperta ha una sua superficie che cogge sulla linea gamma quindi qui facciamo una cinturazione sulla linea gamma e qui abbiamo una valuta superficie che cogge sulla linea ecco, queste sono le nostre quattro fazioni adesso vediamo un attimino perché c'è sempre, lo vedo spesso agli esami, c'è un po' di confusione tra queste superficie aperte e tutte le superficie chiuse quindi datemi un attimino così le ripassiamo una seconda da qui alla linea piccolina allora, in caso della superficie chiusa è molto intuitiva, eh? la superficie chiusa è come un palloncino e diciamo, in particolare la superficie chiusa è una superficie che racconda un certo volume V al suo interno quindi quello che è dentro e c'è quello che è al di fuori allora, quando si vanno a calcolare i flussi noi dobbiamo integrare il nostro campo dettoriale su questa superficie e per convenzione viene indicata una superficie elementare orientata di sigma come un vettore uscente dalla nostra superficie quindi un flusso positivo vuol dire che le medie di flusso escono da uno studio questo è abbastanza facile da intuire, si capisce, un volume chiuso e questo è la base più facile invece c'è confusione a volte sulla superficie aperta allora vediamo un attimino la superficie aperta allora, abbiamo visto la rege di Ampere per esempio nel di Ampere ci dice che la circolazione del campo magnetico luogo una linea chiusa è elevata in flusso quindi da una parte abbiamo integrato le linee dall'altra parte abbiamo integrato le linee allora, in particolare supponiamo che questa sia la nostra linea gamma e ricordate che una linea gamma ha sempre un verso questo verso è indicato dall'elemento di L nel nostro integrale allora, questa linea gamma, in realtà, diciamo, lo vedremo fra un attimino questa linea gamma quando voi avete, per esempio, la lette di Ampere non importa quale interessa che scegliete purché a un certo punto seguite delle regole nella rete della vostra linea gamma chiusa vedendo che sceglie una superficie allora, giusto per identificarla questa può essere una superficie allora, dobbiamo mettere in relazione risiediamoci un attimo per avere un esempio complicito quindi abbiamo la nostra circolazione sulla linea gamma mentre questa è l'influge su una superficie che poggia sull'elmena allora, qui la linea gamma che scegliamo è una sola c'è la supera indicata dal nostro professore di L Vettorio di L dovrì che abbiamo calcolato il flusso della nostra lezione del problema allora, qui ne ho indicata una e ci sono due questioni da guardare la prima è qual è il verso della superficie del sigma ma quando andiamo a calcolarci il flusso è chiaro che questa superficie potrebbe essere o uscente o entrante dalla lavagna allora, seguendo la regola della mano destra in questo esempio qua in cui ho scelto la linea gamma che gira in senso anche orario la superficie del sigma è uscente dalla lavagna quindi se abbiamo due cose che anche se non esce dalla lavagna avremo un flusso positivo se ne esce già in grado avremo un flusso negativo questa è la prima questione la seconda questione e questa è un po' più importante e infatti nessuno ci dice quale superficie deve scegliere dice il suo scritto che questa superficie deve appoggiare sulla linea gamma infatti le superfici che non può scegliere di fatto sono in più le superfici che poi sulla linea gamma sono in più e questo diciamo pone e vedremo tra un attimo pone le condizioni appunto sulla nostra densità di corrente J e quali sono queste condizioni? allora guardiamo prima la nostra analisi di acqua supponiamo di voler calcolarci la circolazione di B uno per il problema in cui si presenta davanti da risolvere sceglie a un certo punto una linea gamma scegliendo questa linea gamma si calda questo integrale di linea questo integrale di linea generalmente cioè in base al problema che scegliete questo integrale di linea ha un unico valore questo qui ha un unico valore che dipende scusate facciamo scrivere questo il integrale di B dividente dipende fuori dopo di che a destra della nostra legione ampere abbiamo una densità di corrente J il cui flusso va accattolato su una connuta superficie che poggia sulla linea gamma e qui nasce la questione perché i due dici si comportano sulla linea gamma ce ne sono infinite ce ne sono infinite e allora quale scegliere? allora non è che uno deve sceglierne una condizione sulla delizia di corrente adesso vediamo un attimo qual è allora se vogliamo di avere la nostra linea gamma questa è la vostra linea gamma il verso per esempio che avete messo questo verso questa parte e scegliamo due superfici diverse che pogliano sulla stessa linea la prima per esempio la mettiamo qua su questa qui questa linea la mettiamo come di sigma 1 dobbiamo avere una prima superficie che è un pochettino a bolla di sapone che è sopra la nostra linea gamma e scegliamo una seconda che invece è qua sotto allora fai il centro come verso intercorenza linea gamma diciamo direttamente in questo dovete immaginare che questa parte è fuori e questa parte è dietro sulla lavagna ok quindi avete la regola di mano che indica la direzione della superficie di sigma lo stesso discorso vale per questa seconda superficie quindi avremo anche qui una ridiciamo così questa grandissima 2 che indica una superficie di sigma 2 che va sempre diciamo verso allora vedete qual è il punto che simuliamo che questa legge di Ampère che lega una circolazione con un flusso calcolato attraverso una politica superficie che poggio sulla linea bisogna che i flussi attraverso la superficie di sigma 1 e la superficie di sigma 2 devono essere uguali questi due flussi devono essere uguali quindi avremo che il flusso di V di sigma di sigma di sigma 1 ecco questo sarebbe su 1 il flusso di sigma 1 e la gamma questo flusso deve essere uguale al flusso attraverso la seconda superficie altrimenti uno avrebbe un valore a sinistra e avrebbe due valori che si è previsto a fare quindi è chiaro che questi due integrali su queste due superficie devono essere lo stesso benissimo allora facciamo un'ultima cosa scendiamo una terza superficie che è uguale alla decima 2 quindi semplicemente gli chiamiamo diverso allora questa qui la chiamiamo la decima 2 primo semplicemente cambiamo il verso alla decima quindi chiaramente cambiamo verso la decima 2 questo integrale cambia la segna cambiando il disegno a questo punto lo posso portare dalla parte e risultiamo che cosa e faccio un integrale su 1 e che lo immagino quindi j scalare ds1 più l'integrale su che chiamiamolo primo perchè abbiamo preso adesso quella ribaltata come adesso di j scalare ds1 2 questo deve essere quasi allora l'ultimo passaggio è chiaro che se voi mettete insieme la ds1 e la ds1 o 2 queste insieme formano una superficie qui quindi quindi la ds2 quindi insieme alla ds1 formano una superficie più e questo è tutto quando abbiamo una superficie chiusa abbiamo una condizione che ci dice la ds1 che la ds1 risulta che la ds1 vale solamente se la ds1 corrente la ds1 corrente stazionale oppure non so come la chiamata il pulsore non la ds1 si chiama anche la corrente stazionale quindi la ds1 quindi la ds1 va isolamente in caso di la stazionale allora questa è la prima questione che volevo appunto spiegarvi vediamo un po' se c'è qualcosa da dire perci diciamo il fatto che la ds1 corrente può essere anche scritta in forma differenziale quindi sapete che il flusso di j è una superficie chiusa verso il ruolo a 0 questo integrale superficie può essere scritto come l'integrale volume di una divergenza in genere al che se l'integrale su qualunque superficie ha divergenza di nulla vuol dire che l'integrale è la divergenza che resta uguale quindi la corrente stazionale e la corrente sono in locale significa che le vostre linee di campo devono essere delle linee di inizio del corrente devono essere linee sempre chiuse non hanno né l'inizio né una fine in particolare la divergenza è uguale a 0 allora qual è il problema di questa cosa qui? il problema è che questa condizione sulla vezia del corrente che è necessaria per la logica utile descritta in quattro equazioni di Maxwell sembrano equazioni generali non lo possono essere c'è qualche cosa che manca e perché c'è qualche cosa che manca? beh avrete visto che questa condizione di stazionalità dell'inizio del corrente che sta condizionare la posonazione della carica etrica allora come si scrive la posonazione della carica etrica? andiamo un attimo però scusi però scusi non si legge molto bene l'alto a destra le domande? no l'alto a destra non si legge molto bene ah non si deve bene? io non so se riesco a non so se può scrivere un po' più in grande solo questo magari può aiutare eh d'accordo dunque aspetta dove sono messo? qua sto pazzo quindi cerco di evitare la parte in alto perché è sfocata immagino no? ok cerco di usare la parte centrale allora vediamo la conservazione della carica anzi cancelliamo tutto così abbiamo più spazio allora conservazione della carica elettrica allora io penso che la lezione avete già visto le questioni di continuità non so esattamente come vi è stata proposta la conservazione della carica elettrica io ve lo ripeto eh ve lo ripeto perché ci servirà anche più avanti quando discuteremo alcune questioni allora vediamo un pochettino la conservazione della carica elettrica significa per esempio se avete un volume dentro quale c'è una quantità di carica se a un certo punto la carica all'interno di questo volume cambia non so diminuisce diminuisce non perché a un certo punto c'è la carica elettrica che scomparsa ma perché questa carica elettrica è uscita dal volume quindi il concetto è questo qui il bambino è un parrucino che si sbompe loro continuano contattaccia dal punto del parrucino dicono che la materia è scomparsa del parrucino perché è intuitivo che se all'interno del volume in questo caso la carica elettrica diminuisce perché c'è una parte che è uscita allora vediamo un pochettino quando sponiamo appunto di avere un certo volume che è un volume genetico dentro il quale si trova una certa quantità di carica e adesso questa carica la andiamo a rivedere dopo un tempo del bambino anzi questa qua la chiamiamo scusate la chiamiamo interna per essere picchiati questa è la carica che si trova all'interno se la andiamo a vedere dopo un certo tempo del bambino questa carica al tempo tp supponiamo che sia diminuita per fare l'esempio supponiamo che sia diminuita se è diminuita vuol dire che c'è una quantità di carica tp che è uscita dal nostro bambino allora se noi vogliamo appunto scrivere matematicamente che cosa significa la considerazione della carica elettrica significa che questo valore q al tempo t deve essere uguale al valore interna volume al tempo tp più quello che è uscito quindi noi possiamo scrivere q di t ed è qui la conservazione della verità q di t uguale a q sul dato interno a questo uguale più interno tp più la quantità di carica elettrica che è uscita dal nostro bambino e suguaglianza appunto deriva dal fatto della carica elettrica si deve usare tp allora vediamo un attimo di vigilare un po' di modificazione allora possiamo andare a considerare la non so portiamo comunque questi due a sinistra o altra a destra che cosa otteniamo che la carica interna attento t quindi t meno la carica interna attento t sarà uguale a meno uscita dalla nostra superficie io semplicemente ho portato questa a destra e questo ho portato a centro adesso separiamo questa equazione e dividiamo tutto per tp che cosa abbiamo? beh a sinistra abbiamo la derivata rispetto al tempo e la carica interna al nostro bambino mentre a destra abbiamo la quantità di carica assomiglia alla derivata ma il soggetto rappresenta la quantità di carica che è uscita dal bambino per l'unità di tempo ora se voi vi ricordate qual è la definizione di testa di corrente è il passaggio di una carica elettrica attraverso una superficie ed è esattamente quello che abbiamo qui deve uscita rispetto al tempo è la quantità di carica elettrica che è uscita dal bambino quindi questo non è altro che ne ho un po' di mare questo non è altro che la corrente totale che sta uscendo dalla nostra superficie chiusa che rappresenta il flusso al proverso di quelli cittadini della realezza di corrente questa ugualienza qui questa è la definizione di corrente elettrica in questo passaggio qua questa ugualienza qua è proprio la definizione come passaggio di una quantità di carica tenuta di tempo attraverso una superficie in questo caso la nostra superficie è una superficie chiusa allora vedete se adesso questo segno meno lo porto da un'altra parte questo non è altro che la derivata della carica interna ma il flusso e quindi teniamo che cosa? che il flusso attraverso una superficie chiusa della densità corretta deve essere uguale meno l'adeguata rispetto al tempo della carica interna questa derivata è semplicemente il termine il segno meno che era qui l'ho portato dall'altra parte e quindi se non qui è più e più allora questa qui rappresenta la trasferrazione della carica elettrica allora chiaramente rispetto a quella che abbiamo visto per descrivere la legge di Ampère questa qui è in contraddizione con la condizione di stazionale della carica elettrica queste due cose sono in contraddizione quindi è chiaro che la legge di Ampère vi manca qualche pezzo e questo sarà uno dei diciamo non so se lo vedremo oggi penso che no lo vedremo sicuramente mercoledì cioè la legge di Ampère che va completata la legge di Ampère così com'è non può non può essere completta a meno che e uno non pensa che sia sbagliato sulla conservazione della carica elettrica allora l'esperienza ha mostrato che diciamo la situazione è la prima che la conservazione della carica elettrica invece è un principio che non è mai stato osservato alcuna violazione di questo principio almeno a livello relativistico anzi la carica elettrica è un invariante relativistico e diciamo e quindi chi va corretta è la legge di Ampère quindi questa è la prima cosa che fa vedere che in qualche modo la legge di Ampère dovremmo aggiungere un termine e questo termine vedremo dipenderà il termine ok come abbiamo visto prima questa forma della conservazione della carica elettrica è una forma integrale e questa forma integrale la possiamo scrivere anche in forma inferziale sempre usando il termine della divergenza si può dire che un flusso attraverso una superficie schiusa può essere scritto come un integrale di volume della divergenza quindi questo integrale qui si può scrivere come integrale della divergenza di volume su un volume e a destra qui che cosa abbiamo? abbiamo meno di quello che rimane la carica elettrica può essere scritta anche lui anche lei la carica interna del nostro volume come un integrale sul volume della densità di carica allora a questo punto se vuoi smettere che la vostra superficie non cambia nel tempo la superficie è fissa può essere in base temporale può essere portata all'interno dell'integrale portata all'interno dell'integrale avrete una derivata parziale quindi questo termine questo adesso non c'è molto spazio come posso scrivere cosa otteniamo? otteniamo che qui abbiamo 20 gradi sul volume ne avremo l'integrale dell'invergenza che è dettato per me i volumi sono dettato questo deve essere uguale a meno la derivata integrale meno la derivata parziale della destra di carica volumetrica integrata sul volume il passaggio da una derivata totale alla derivata parziale è perché questo termine qua l'integrale del nostro volume ha già eliminato la differenza delle combinate spaziali ma è solo la combinata temporale e quindi avete una derivata notale questo oggetto qui a destra questo integrale dipende solo da te mentre qui la rho siccome va integrata su volume in questo caso qui la rho può neanche non può dipendere anche dalle coordinate spaziali in nostro caso quindi dobbiamo fare la derivata spaziale allora questo ci dice che la densità del fotogramma la divergenza della densità del fotogramma più del rossomiglio e questa è la forma differenziale è anche nota come equazione incontruta però deriva direttamente dalla conservazione della camera questa è la probabilità bene quindi abbiamo già capito guardando la legge di Ampere guardando le condizioni sotto le quali è valida c'è qualche cosa che non guarda con la conservazione della camera bene no tra l'altro si descriviamo giusto un attimino eh questo che ve l'ho detto fino adesso mostra che c'è qualche cosa che non guarda nella legge di Ampere che è stato discusso tutto in vuoto dopo di che voi avete visto anche le passioni della materia scriviamo scriverle quindi avete visto che la materia e cosa succede? la legge di Gauss diventa la legge che vi dice che l'integrale del dottore di induzione elettrica l'integrale di una superficie chiusa è uguale a solamente la carica libera presente quindi non tiene conto del fatto che se c'è un mezzo questo mezzo può polarizzarsi quindi avere delle cariche superficiali che si è ricargate in polarizzazione superficiale quindi stiamo parlando solo delle cariche libere perché poi abbiamo sempre nell'autostatica il campo elettrico rimane comunque conservativo questo campo il lavoro compiuto del campo elettrico è su una linea chiuncia per essere uguale a zero sempre per il campo magnetico B abbiamo che non esistono le cariche magnetiche quindi questo flusso di B è uguale a zero e la legge di Ampere invece è quella che si modifica perché a volte alla corrente conduzione per tutte le cariche libere che si muovono si possono avere anche delle cariche di pariolare voi avete visto delle correnti di magnetizzazione poi vedremo in un pochettino che non ci sono solo quelle i ci sono anche le correnti di polarizzazione che modificano la parte decorata comunque voi avete visto che un'integrale di H in Df è uguale a che cosa l'integrale anche qui lo scrivo in Db per questo integrale va su una linea gamma e questo sul gamma e anche la legge di pari è qui la legge della conservatività del campo elettrico che è scritto in una linea gamma in una linea gamma allora queste sono le vostre 4 equazioni dove in particolare il vettore di D avete visto il quale è altrimenti più B mentre D in questo caso avremo di D è uguale a 0 H più meno di 0 queste sono le nostre definizioni con il quale poi ci torneremo da un pochettino lo stesso discorso che abbiamo detto poco fa la conservazione della carica elettrica riguarda le cariche le correnti libere quindi anche qui nella forma della batteria ci sarà un pezzo che dovremmo trovare se dovremmo aggiungere alla legge di Aper bene allora altro altro commento che ripetiamo che avrete visto già sicuramente ma lo ripeto perché ci sembra adesso tra poco quando discuteremo come si modifica appunto diciamo nel caso dei campi dipendenti dal tempo il campo elettrico non è più un campo conservativo adesso quindi vediamo un attimino di impetere un altro argomento che sarà necessario per i prossimi problemi che vedremo a fare poi allora la questione è al semplice quando avete e ritorniamo sempre a discutere la legge di Aper e quella B o B avete questa relazione una integrale di linea di B sulla linea per il resto è uguale di Z plus di J attraverso una superficie di contorno di linea abbiamo visto che J deve essere in campo solo in linea benissimo l'altra cosa però che l'ha discusso un attimino è che questa legge qui di fatto permette di risolvere dei problemi in maniera estremamente semplice solamente solamente se la vostra sorgente del campo ha una simmetria di qualche tipo altrimenti questa legge diventa una legge complicatissima da calcolare e non permette di risolvere alcun problema non so se voi prendete una spira una spira singola prendete una corrente una spira singola e voi richiedete qual è il campo magnetico in generale da questa spira non potete usare la legge di Aper non ve lo permette perché non avete una simmetria del campo della corrente che vi trattate di capire come attacolare questo tecnico adesso vi leggo a me questa è difficile nel risolvere non bene solo se la corrente ha una simmetria come la chiamiamo una simmetria forte in particolare le simmetrie le simmetrie generalmente sono tre potete avere una corrente planale simmetria quindi piana avete una corrente simmetrica oppure nel caso delle correnti che non si possa avere però in generale quando applicate la legge di Gauss per esempio potete avere una simmetria solida allora per esempio panale un po' simmetria allora perché è importante questo? siccome anche questo all'esame spesso si vede perché è importante questo fattore? è importante perché questo integrale di linea per poterlo tampolare in maniera semplice avendo scelto una certa linea gamma che è quella se siete liberi una volta c'è questa linea gamma per poter calcolare la test integrale vedete qui c'è un prodotto scalare l'iscalabile e quindi bisogna conoscere già qual è la direzione di B rispetto a DL cioè in particolare uno deve conoscere già qual è la struttura geometrica delle linee del campo magnetico altrimenti la legge di Ampere non si può utilizzare allora vediamo subito l'esempio più semplice semplice però a capire per esempio se voi avete il filo infinito è forse la corrente del filo questo è chiaramente una sorgente di campo magnetico è una corrente elettrica chiaramente una sorgente di campo magnetico che ha un forte grado di simmetria in particolare ha una simmetria cilindrica allora siccome è sorgente ha una sorgente cilindrica anche il campo aveva la stessa simmetria cioè qui aveva una simmetria cilindrica e qui aveva una simmetria banale le due cose si sono legate tramite questa equazione la struttura di questa corrente si deve rispecchiare anche per la struttura del campo allora per esempio uno parla di un problema dice benissimo questo è un problema che ha un grosso grado di mentalità di simmetria in particolare ha una simmetria cilindrica bene allora come faccio a capire a priori come è fatta la struttura del campo magnetico? beh le linee di campi vettoriali che hanno una simmetria cilindrica non ce ne sono tante ne sono tre perché per esempio uno si potrebbe dire per particolarsi che la nostra corrente genera delle limiti a un magnetico che sono per particolare al filo un po' come capolette però è chiaro che questo è inaccettabile perché è inaccettabile? è inaccettabile perché se voi per mettere una superficie chiusa per chiudere il nostro video vi avrete un flusso di d attraverso la superficie chiusa di diverso da zero questo viola il fatto che non ci sono sorgenti di campo magnetico quindi questa struttura che avrebbe una simmetria cilindrica non è quella di un campo magnetico generato dalla corrente lineare perché viola diciamo le troverate il campo magnetico quindi questo qui non è diciamo la struttura possibile per il campo magnetico altra possibilità non so se la vedete qua sì altra possibilità è quella di avere le linee di campo che sono parallele anche così avrete le linee di campo magnetiche che sono la simmetria cilindrica quindi avrete un rapporto che ha una simmetria cilindrica ma anche le linee di campo a simmetria cilindrica allora anche questa qui non va bene perché? non va bene perché questa equazione qui vi sta dicendo che per avere una circuitazione di B devo avere un flusso di J allora è chiaro che questo significa se volete che il campo magnetico deve essere ortogonale in qualche modo alla corrente questo ve lo dice anche la legge di Biosalat che ho già visto questa qui se volete di ora la legge di Ampere la legge di Ampere la legge di Ampere dice di qualcosa che le linee del campo magnetico eh non possono essere parallele al campo alla corrente allora rimane l'unica possibilità e l'unica possibilità che rimane è quella corretta che l'ultima possibilità della struttura del campo vettoriale che ha una simmetria cilindrica ed è quella di linee circolare e questa è quella è la struttura corrente allora una volta che voi avete determinato la simmetria della corrente avete determinato qual è la struttura geometrica delle linee di B allora potete scegliere una linea gamma in particolare uno sceglierà una linea gamma con centro con la cosmetria e a quel punto tutto si semplifica perché il campo magnetico è parallelo il campo magnetico ha un valore costante e il problema poi diventa un problema banale però facciamo tutto si se volete uno va a descrivere faccio un disegno qua anche all'eliminante non c'è niente scherzo che è sempre parallelo con il punto del nostro campo magnetico allora questo ci servirà adesso fra un po' per parleremo appunto di campo però è molto importante capire che questa relazione P è una relazione che di fatto è un'uguaglianza integrale di fatto è una cosa estremamente complicata nel caso generale però in certe situazioni di simmetria che per il campo elettostatico per esempio l'avete visto sicuramente c'è una simmetria sferica per una carica puntiforme avete una simmetria sferica qui potremmo avere simmetrie o planare o simmetrie se avete una struttura di corrente diversa da queste il problema diventa di solito insormontabile e bisogna ripartire da quel punto dell'integrale per la legge di Biossalare nel caso del campo magnetico oppure dell'integrale oppure uno scalco del potenziale delle derivate oppure fa l'integrale della velocità definita però ripeto questo discorso vale anche per la legge di Daos e anche per quello che adesso vedremo per il campo indotto avete una simmetria della vostra sorgente le linee di campo devono avere la stessa simmetria non solo però voi le strutture che scegliete qui del campo non devono contraddire le adequazioni che ci sono per il campo ragionale va bene ok quindi abbiamo detto alcune cose abbastanza generali adesso ne dico un'ultima ci porta a capire i campi indotti allora l'ultima cosa che volevo dire prima di appunto di discutere i campi indotti ma è tutto legato a una cosa o un'altra è il fatto che nell'ecostanica il fatto di avere un campo conservativo permette di introdurre potenziale elettostanica potenziale elettostanica cioè il campo elettrico si può scrivere come meno realmente il potenziale scalarico cosa significa questo? significa se prendiamo in pratica per esempio un dato di Dio supponiamo che questo Dio andiamo per la lunghezza L e supponiamo di avere una differenza di potenziale tra un estremo e l'altro quello che sappiamo è che all'interno di questo conduttore in realtà non solo all'interno ma se questo punto qui si trova un certo potenziale se questo punto qui si trova un altro potenziale tra i due ci sarà un campo elettrico in particolare qui dentro avremo un campo elettrico e se questo è un produttore vediamo un produttore se questo è un produttore all'interno ci sarà anche una mezza di potenziale generale allora prima di andare avanti voglio dire un'altra cosa su questa questione qua qui abbiamo un punto che si trova una certa differenza di potenziale rispetto al punto qui U A meno B è diverso da zero in particolare l'integrale di linea è il campo elettrico però siccome il campo è conservativo questo integrale di linea lo potete fare in qualsiasi percorso che vada A a B adesso qui ho disegnato che c'è un campo elettrico ad un termine del conduttore questo è vero però questo campo elettrico non è che c'è solo dentro il conduttore se vuoi scegliere un percorso qui fuori anche qui ci sarà un campo elettrico di fatto avendo due punti a potenziale del generale se guardiamo qui tutto lo spazio è prevato da un campo elettrico un campo elettrico scato dopo di che il fatto di avere un conduttore e un campo elettrico che esisteva già prima genera la gestione corrente cioè anche la legge di O e uguale la rotta di J ma attenzione a questa roba non è la densità di carica ma è la resistività non confondete che questa è la resistività quindi due punti a potenziale di lezze uguale a B significa che tra qui e qui ci sono i campi elettrici in giro se mettete il conduttore in questo campo elettrico fa sì che ci sarà sull'interno una densità di corrente allora questo dovete ricordarlo perché è un punto quando discuteremo appunto dei campi indotti molto spesso penso lo sappiate l'avete visto probabilmente anche a scuola molti duori quando avete delle forze elettomotiche indotte avete delle correnti indotte spesso si parla di correnti indotte ma in realtà la corrente indotte è una conseguenza della presenza di un capo elettrico cioè qui la causa della corrente è il capo elettrico e il capo elettrico c'era già dipendentemente che ci sia un occhio di conduttore se voi avete due punti che si trovano in potenziale diverso tra A e B c'è un capo elettrico mettendo un conduttore o fare la corretta allora scordiamoci appunto questo integrale di linea l'integrale tra A e B del campo elettrico che sarà il quadro di VB se sostituiamo la legge di ROM invece del campo elettrico mettiamo ROG G abbiamo questo il passetto il quadro di VB è anche uguale a delale di ROM DL DL che cos'è? DL rappresenta un elemento adesso non ho usato tutto il spazio facciamo un capo questo è DL che sarà un vettore che va lungo il nostro filo e ricordiamoci che qui stiamo parlando di correnti che in un certo punto dobbiamo parlare della corrente elettrica dell'intensale corrente ma lo supponiamo di scegliere una superficie e quindi è anch'essa che parallela diciamo la sua sezione a un vettore che è parallelo a DL quindi questa integrale P che possiamo proprio riscrivere in maniera un po' più utile per quello che voglio discutere allora possiamo scrivere che Rho integrale di Rho G sarà DL come vedete qui in basso integrale Rho G in DL noi possiamo scriverci in questa forma qua Rho G star e qui ci mettiamo l'inversore di DL che moltiplica il suo modulo il vettore DL è l'inversore moltiplica la sua modulo perché faccio questo? perché in questo esercizio qua ho questo problema DL e Dessessi ma sono paralleli quindi questo DL questo versore DL noi lo possiamo sostituire con l'inversore della superficie è un elemento infinitesimo della sezione DL quindi questo qua lo possiamo scrivere faremo Rho J star Ds e poi qui l'interale è 2 pari punto DL allora che cosa possiamo fare? questo punto Ds inversore se lo moltiplichiamo se lo moltiplichiamo per E-Sigma modulo e qui denigliamo per sigma che cosa otteniamo? noi possiamo allora supponiamo questa semplicità si è ben uniforme giusto per semplicarli allora se ben uniforme cosa possiamo fare? beh questo integrale cosa diventerà? avremo l'integrale DRIV e no non è questo che volevo fare allora invece di Dsigma questo versore qua scusate vogliamo differenziare? è semplicemente sì questo è così scusatemi allora se Jaser è uniforme questo non lo scanare non lo possiamo riscrivere beh poi avremo Rho possiamo moltiplicarli dividere per sigma quindi avremo J e poi avremo il sigma stavolta il vettore e poi li dividiamo per il modulo questa definizione del versore sigma V anzi sigma diviso sigma e poi andiamo all'integrale questo è un prodotto scalare allora quindi potreste riconoscere immediatamente che questa termine qua è l'intensità di B questa qui non è alta Rho per I di D sigma integrato l'interno tra A e D e questa è la nostra differenza del potenziale qua questo l'avrete visto e ora l'avete visto sicuramente che questa qui porta alla legge di Ampere la legge di O se questa corrente qui questa intenzità di corrente è fatta con l'intenzità di corrente che potrebbe dipendere da quale stazione c'è dietro però se noi assumiamo che la corrente non c'ho spazio se la corrente è stanzionaria che significa che il flusso di G dovrebbe essere una superficie chiusa che è uguale a zero vuol dire che per qualunque sezione che voi scegliate nel vostro filo questa corrente sarà sempre la stessa quindi questa corrente la possiamo portare fuori quindi avremo che i per l'integrale pari b rho di n di sg uguale a quale e questa è la benota del Dio la benota del Dio però la legge di Lohm ve lo ricordo è una legge che vale solamente per una corrente stanzionaria ok quindi se avete una differenza di corrente applicata da qualcuno avrete una corrente stanzionaria questa qui se la corrente appunto il suo flusso attraverso l'intervento chiuso uguale a zero questa corrente che portate fuori dall'inirale e avete uguale v vale la solita legge di O allora perché vi dico questo e lo ripeto e lo ripeto perché supporiamo adesso di avere non un tratto di filo ma supporiamo di avere adesso un percorso chiuso se abbiamo un percorso chiuso e siamo in presenza di soli campi elettrostatici cioè campi conservativi quindi presenza di soli campi e conservativi che cosa succede? questo integrale che abbiamo fatto poco fa nel quale abbiamo tirato fuori questa corrente elettrica questo integrale qua questo discorso lo possiamo ripetere pari pari esattamente lo stesso solamente che questo integrale qua che cosa lega? nel caso di un percorso se noi scegliamo per esempio la mia gamma in questo caso avremo che i due punti a e b coincidono abbiamo un campo conservativo e che quindi v a meno b ovviamente uguale a z siamo nello stesso punto partiamo da un punto e torniamo lo stesso e questo qui se voi fate esattamente il passaggio che abbiamo visto un secondo frano ci dice che questo qui deve essere uguale DL su sigma che questo è il nostro integrale moltificato per la corrente che se assumiamo la corrente stazionaria questa corrente è fuori il integrale allora vedete cosa ci dice questo qui? ci dice che se in presenza di campi elettrici statici voi avete un percorso chiuso non potete avere la vostra corrente sarà uguale a z cioè in presenza solo di campi elettrici non potete avere non potete avere una corrente stazionaria se voi partite dall'ipotesi avere una corrente stazionaria quindi fate il conto esattamente così poi ponete a uguale a b e chiaro la vostra corrente diventa a z quindi se voi volete in qualche modo avere una corrente che scorre una corrente diciamo stazionaria che scorre in termini di un circuito questo significa che è presente un campo che non è un campo elettroscale ci deve essere qualche altra forma di campo elettroscale quindi questo qui mi sta dicendo che intanto un campo elettroscale non potete avere una corrente stazionaria bene adesso vi faccio una domanda magari ci pensate come la sua volta è complicata immagino che avete visto il circuito di RC se avete risolto il problema della corrente o di scarico o di carica da un circuito di RC e sicuramente per risolvere il problema del circuito di RC avete applicato la legge di la legge di Oh o Kirch nella stessa cosa allora domande perché della soluzione del circuito di RC l'avete fatto l'immagine del circuito di RC qualcuno mi può rispondere dire sì o no? sì ok quindi avete visto il circuito di RC e l'avete risolto applicando la legge di Ohm prevede correnti stazionali mentre il circuito di RC la corrente non è stazionaria avete solo un condensatore sicuramente si scarica sulla resistenza per esempio un condensatore che inizialmente è carico più U più meno U questo si scarica attraverso la resistenza chiaramente questa è una corrente che non è una corrente stazionaria e come si fa capito subito? bene diciamo qui sicuramente c'è una corrente e avete risolto il problema che è una corrente che calma il tempo non è stato necessario allora perché sia una corrente stazionaria bisogna che qualunque sezione della nostra linea chiusa che corrisponde al nostro circuito elettrico bisogna che la corrente sia la stessa dappertutto allora finchè uno sta all'interno di una parte conduttrisi vero o male eh questa cosa è vera e questo lo vedremo in un modo esplicito da un po' però sicuramente all'interno di una parte di questo condensatore non passa di una carica retta quindi qui abbiamo due sezioni questa e questa abbiamo due sezioni del nostro circuito dove la corrente è inersa questo sicuramente non è un problema a corrente stazionaria questa corrente non stazionaria e allora perchè è stato risolto la domanda se è una domanda che vi faccio poi risponderemo a qualche lezione adesso non siamo in grado di farlo però alla fine è corretto cioè non è corretto è un'approssimazione ma è un'approssimazione molto buona e quindi si fa così ok quindi però torniamo al nostro problema se vogliamo la corrente stazionaria il capo è stato non basta allora forse è un momento buono per prendere 10 minuti di pausa perchè è passata un'oretta da quando ho iniziato allora io vi dico adesso facciamo un attimo una pausa se qualcuno vuole scrivere e farmi qualche domanda volentieri io riprenderei il resogiorno e poi facciamo fino a luna la seconda parte della lezione quindi adesso io faccio il resogiorno meno 10 e ci vediamo tra mezzo se qualcuno vi vuole trovare le domande da fare voi che rispondo io 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.